Mirella, di cosa hai bisogno? Guarda, avevo bisogno di cazzo Eeeh, che cosa ha detto? Guarda, avevo bisogno di cazzo Eeeh... Ieri sera mi faceva veramente malafiga e mi sono filato un dito dentro Svergognata Svergognate Per calmarla, perché c'è la figa gonfia Ah, interessante Sono due settimane che non trombano, eh, oddio Eeeh, però... Calma, eh Volevo proprio un bel cazzone dentro Eeeh, mamma mia questa, uh È pissata, eh C'è proprio che mi sfonda, eh Sì, sì, ho capito, eh, non è che devi approfondire C'è proprio che mi... Mi massacra dentro Ancora Cosa c'è questo? Cosa c'è questo? Cosa c'è... Questo? Cosa c'è questa? E ho capito che vuole il cazzone dentro, eh Ho capito Vuoi il cazzone dentro Ah, è un'oggio così Ah, è un'oggio così Mi sto agitando Mi sto agitando Un po' di cazzo voglia Sì, a meno per cinque minuti Ma come per cinque minuti? Ma tutto sto casino per cinque minuti Ma va, va Mi calma la figa, non ce la faccio più Ma andai a questa, uh Ma... Proprio... Proprio lì, eh Proprio lì Ah, non ce la faccio più Stasera è violento qualcuno Perché non lo fai? Violenti qualcuno, eh Arrivo Non mi faccio violentare da cinque o sei minchie Porca troia, uh Minchia, ma ti regalo questo, ti regalo Basta, ti basta Se capiti sotto Se capiti sotto Le mie grinfie Ti metto incinta Parola di Giuseppe Simone Parola di Francesco Madori 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 Parola di Francesco Madori